Come promesso oggi sto uscendo per fare il video, vediamo cosa c'è in giro, mi trovo qua in fronte alla Spalmeras, vediamo, andiamo a vedere, vediamo se vi soddisfo e se mi sentite, spero di sì. Guardate il tramonto, che spettacolo ragazzi, guardate, 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 e mi hanno detto che si lamentano tutti perché non si sente niente l'audio, e perché devo sistemarlo pure, ci posso fare, mi sto mettendo da vicino per farsi sentire meglio. Guardate che bello, guardate che bello ragazzi, le nuvole con quel sole, pare che si vede un fuoco. Bello, 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 bello. Guardate, ancora un po', madonna mia. Spero che si sente meglio adesso, spero, lo spero. Vedete? Guardate la gente che c'è di sera, adesso scendo un po', ve li faccio vedere. Mi fa passare questo o mi uccide? No, mi fa passare. Spero che mi sentite adesso, sì. Vedete che passeggiata che c'è? Pensavo che c'era un po' di più di gente, ma va bene, dai. Però c'è tranquillità e pace, senza lotture di scatole, con sta malattia in giro, è la gente tranquilla qui. Adesso alle 10.00 devono chiudere. Che dobbiamo fare? Fino al 21.00 è così. E' tornato i propri fuoco. Non c'è tanta gente nella genna per gli altri. Vediamo cosa c'è alla Cajaletta in giro. Un po' pettino vuoti i locali. Vediamo che c'è qua qui alla Cajaletta. Non c'è tanta gente. Speravo di più. Non c'è molto. Andiamo a fare una passeggiata sul Paseo Marittimo. Vediamo che c'è. Questo è il Paseo Marittimo. E c'è poco. C'è poca gente. Proprio, poco, 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 poco. Di soldo qua, sapete cosa c'è? Mamma mia. Non si può camminare della gente che c'è la sera, il giorno. Vediamo. Vediamo che giriamo l'angolo che passa. Questa è la piazza di solito dove c'è il cantante sempre. Fanno musica in questo palco qua sopra. che adesso c'è poca gente. Vedete? In sommazione tra l'altro che tanto. Niente. Questa è la gente che c'è. non c'è la pallina, non c'è la pallina. Qui sono tutti. Vado a vedere poi in questa piazza se c'è qualcosa. Guardate la gente che c'è al Maits. Che fanno aperitivo. Vedete? Non mi avvicino tanto perché mi sembra brutto. Però c'è. La gente c'è. Scendiamo un po' giù. Vediamo. Qui. Dezza amore. Nada. Nada. Da qui. Pieno. Perché ci sa fare? Perché è bravo. Sì? Vediamo cosa c'è qua sotto di più. Se c'è qualcosa ancora. Stanno uscendo tutto adesso perché dopo non si può uscire più. più tardi tutti dentro. Vedete? Ora scendo là sotto voglio vedere cosa c'è. È deserto. Deserto. Vabbè, un po' c'è. Però non è tanta. qua di solito fanno i concerti. Quando ci sono fanno i concerti qua. Quelle poche volte. vedete i giovanotti? Come si divertono i giovanotti. guardate questa vetrina, tutta bella, se era vera questa macchina. le viscose cose cose. Vedete? Spero che oggi non vi lamentate, che non mi sentite, vi lamentate sempre. E' vero, avete ragione, però, c'è un telefono che devo sistemarlo. Lo porterò. Per sistemare. Ok? E ora? Grazie. Sì. Sì.